Nel Sannio terminata la prima fase della campagna vaccinale, destinate alle attività produttive realizzata nel Lab di Ponte Valentino, inaugurato lo scorso 14 maggio, da Confindustria Benevento, Consorzio Asi e Asl Sanita. Sono state somministrate ben 6.000 dosi che hanno consentito di vaccinare con la prima inoculazione i dipendenti delle aziende collocate nell'area industriale di tutte le imprese della provincia iscritta a Confindustria, che hanno aderito all'iniziativa. Dalle prossime ore al viaggio alle seconde somministrazioni, in modo da completare l'immunizzazione entro la seconda decade di luglio. Unico in campagna e tra i primi in Italia dedicato esclusivamente alle imprese, ai loro dipendenti, familiari e collaboratori, il Lab di Confindustria ha fatto registrare tempi di attesa per le somministrazioni nell'ordine di qualche minuto, per le persone convocate che hanno, così, evitato file ed attese. Abbiamo realizzato un modello innovativo di sanità che ha raggiunto i lavoratori e le famiglie delle imprese del territorio, con un riscontro molto positivo sia in termini di risultati raggiunti che di qualità di servizio offerto, ha commentato il direttore generale dell'Asla di Benevento, Gennaro Volpe. Poter lavorare senza avere paura, magari, che il collega possa essere positivo e possa contagiare tutti è davvero un ritorno alla normalità, alla tranquillità. Aveva invece dichiarato qualche giorno fa il presidente Oreste Vigorito, in occasione della prima settimana di attività.